Quindi il giornale dei saldi anche a Roma cominciano oggi ma non sono tutti così furbi a quanto pare? No, non sono molto furbi perché di solito i primi giorni i negozi tirano fuori la roba un po' più vecchiotta e quindi allettante mettono tipo il 70, il 50 e non sanno che la roba vera è quella che sta intorno al 20%. I saldi veri bisogna aspettare e bisogna conoscere la merce. Lei ha soffrito dei saldi oggi? Ho comprato gli occhiali, anche quelli con lo sconto, cosa più importante, con i vestiti c'è sempre tempo. Sono cominciato i saldi anche a Roma, tanta gente in giro per i negozi? Tantissima, troppa. Troppa, è stressante? Sì. Tu hai in programma di comprare qualcosa oggi? No, sto a fare un giro per vedere le offerte. Sei contro i saldi diciamo? Marketing, tanto mettono in saldo la roba da buttare alla fine, non è che è tutta roba bella un saldo. Sì, qua è pieno, infatti già voglio tornare a casa e non ho trovato niente come al solito. Adesso mi faccio un giro e... Grazie. 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 Grazie.